salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti eccoci con il giornaliero aggiornamento per quanto riguarda i messaggi in questo video ci concentriamo sul numero 274 rilasciato ieri in data 20 gennaio 2022 vediamo insieme che cosa contiene in questo video prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale naturalmente è tutto gratuito app e sociale 2022 dal 18 gennaio i lavoratori potranno fare domanda sul sito dell'inps per il riconoscimento dei requisiti per accedere alla pensione anticipata dunque sono già tre giorni che vi ha questa possibilità comunicarlo è stato lo stesso istituto con il messaggio 274 del 20 gennaio 2022 sul portale dell'inps sono stati già resi disponibili modelli delle attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori affinché le loro mansioni gravose vengano riconosciute come requisito per beneficiare appunto dell'ape sociale a partire dal primo gennaio 2022 la prestazione di nuovo disponibile per i lavoratori che abbiano avuto almeno 30 anni di contributi che siano in stato di disoccupazione a seguito di un licenziamento anche di tipo collettivo dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale o che siano disoccupati per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché abbiano avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi oppure assistano al momento della richiesta al coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità da almeno sei mesi o abbiano un'invalidità civile uguale o superiore al 74 per cento con una riduzione della capacità lavorativa o siano dipendenti che esercitano una delle professioni gravose indicate nella tabella c allegata alla legge 232 del 2016 con un'anzianità contributiva di 36 anni per tutti i dettagli più specifici riguardo ai modelli caricati in ogni caso rimandiamo al messaggio dell'inps che ricordiamo è il 274 pubblicato ieri in data 20 gennaio 2022 e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti